È curioso di conoscere l'impiegato che ci ha fatto risparmiare alcuni miliardi. Ma sa che le sue previsioni a proposito della Kaji erano esatte? Vedrà che Marini le farà una proposta interessante. Non è escluso che presto possa incontrarsi con il presidente in persona, l'ingegner Ronconi. Non è contento, Ragona? Sì, sono contento. Solo che quando sono contento... Mi scappa la pipì. Oh, oh, mi scappa la pipì. Ma cosa fa? Eh, sto pisciando, no? Ma lo sa che lei...